benvenuti da mac21 nel corso dedicato alla extension text plus in 3ds max 2016 quello che vedremo sarà integrato poi anche nella release 2017 parleremo di un testo avanzato che è stato inserito e che andiamo a illustrare nella presentazione del corso come sempre troverete poi i file disponibili sui siti predisposti alla vendita del corso le lezioni sono 29 lezioni per 3 ore e 15 minuti parleremo di un testo che è stato introdotto e che ha due particolarità fondamentali 1 una parte avanzata per quanto riguarda la gestione del testo stesso 2 una parte più avanzata per quanto riguarda l'animazione del testo stesso essendo che questo non è un testo creato con una forma shapes ma è un testo creato con un oggetto primitivo denominato text plus come sempre il corso prevede prima un'area per quanto riguarda la trattazione passo passo di tutti gli elementi del testo partendo da forme semplici che vanno a identificare come sono stati disposti i nostri roll out e in seconda battuta delle aree più avanzate ed è un esercizio come abbiamo visto nell'apertura della presentazione del corso con questo tipo di testo noi possiamo realizzare non soltanto delle scritte classiche ma introdurre anche tutta una serie di contenuti provenienti da paragrafi di testi da altri file quindi abbiamo la possibilità di importare del proprio dei diciamo dei paragrafi e poi di andare anche ed editare questi paragrafi come all'interno di un programma di video scrittura come sempre abbiamo quelle che sono le possibilità classiche e possibilità un pochino più avanzate che studieremo insieme quindi la classica manipolazione del testo ma vedremo che avremo anche delle tipologie differenti di posizionamento del testo una tipologia point una tipologia automatica una tipologia su regione proseguendo nel corso parleremo di bevel il bevel è una parte importante perché è stato potenziato in questo tipo di testo e lo troveremo direttamente in questa locazione il testo può essere già innanzitutto estruso all'interno dell'oggetto standard perché questo è un oggetto standard e una volta che estruso può avere diverse possibilità di generazione del bevel che precedentemente erano più ostiche da impostare perché bisognava inserire dei modificatori questo tipo di bevel invece mi dà la possibilità in modo interattivo di vedere in automatico cosa sta succedendo sul mio oggetto sia per quanto riguarda la parte posteriore la parte anteriore del del testo e inoltre ci sono degli editor del bevel quindi nel bevel editor noi vedremo come si possono modificare le forme come si possono salvare a nostro piacere queste forme come si possono costruire delle librerie differenti da quelli che sono i template perché ci sono delle aree che sono già pronte e quindi lui propone ad esempio un 6 7 bevel differenti noi poi decidiamo se costruirne ad esempio 10 15 a nostro piacimento vedremo come si costruiscono i bevel vedremo anche nel corso come sono strutturati i materiali in relazione ad la tipologia di questo testo che è parametrico questo vuol dire che essendo un testo parametrico che può essere modificato sia per la presenza appunto delle sue fonte sia per la possibilità di editare e di rimodificare il testo ognuno di noi avrà poi la possibilità di decidere se questo tipo di testo ha un tipo di materiale unico o un materiale scomposto in relazione alla sua rappresentazione perché lui scende ad esempio la parte del bevel rispetto a quella che la parte frontale la parte di estrusione e così via vedremo che tipi di materiali possiamo applicare e poi parleremo di animazione l'animazione può essere un'animazione generata in modo semplice come quella che conosciamo come dire abbastanza classica l'animazione di un testo come questo però essendo un testo avanzato abbiamo anche la possibilità di creare delle animazioni differenti ad esempio animazioni per quanto riguarda le parole quindi creare un'animazione di una parola rispetto a un'altra non uscendo da quello che è il contesto unico perché noi qui siamo all'interno di un contesto unico io volendo potrei cambiare quella che è la lettera in modo interattivo e mantenere quelle che sono le proprietà ad esempio di animazione cosa che non potrei fare con i testi classici di 3ds max perché dovrei scomporre le parole dovrei diciamo modificare determinati elementi diciamo un pochino più lenta qui la cosa diventa più veloce ma diventa anche molto più avanzata perché noi abbiamo la possibilità di creare un tipo di animazione comportamentale che cosa vuol dire comportamentale ad esempio questo è un paragrafo questo paragrafo ha un testo che ha un comportamento diverso in relazione ad i suoi elementi che sono contenuti questo perché come vedete entrano poi in gioco delle possibilità di offset motion control l'offset motion control lo studieremo come parte di animazione all'interno di questo corso dedicato al testo perché sono dei modificatori che noi possiamo creare in relazione a dei comportamenti che noi possiamo modificare a piacere quindi vuol dire che anche in questo caso io potrei costruire tutta una serie di librerie che vanno a modificare il comportamento del testo in animazione e questo è interessante perché non è possibile con i testi classici facciamo ad esempio un tipo di visualizzazione di quelli che sono i contenuti che troveremo qui abbiamo ad esempio le lettere che saltano e poi tornano indietro questa lettera che torna indietro non è una lettera che è stata creata diciamo come animazione generata con quelle che sono le modifiche delle tracce del testo in modo indipendente questa animazione viene gestita direttamente con la possibilità di importare dei comportamenti di animazione che noi possiamo salvare quindi salveremo delle animazioni le richiameremo vedremo come si fa anche in questo caso possiamo costruirci delle librerie e poi successivamente quando andremo a modificare il nostro testo potremo dire al testo di comportarsi in un modo completamente diverso ed aumentare o rallentare il suo tipo di animazione direttamente all'interno di questa area quindi all'interno dell'animation l'animation come vedete di default non ha questo offset motion control l'offset motion control e l'offset order vengono importati nel momento in cui vado a caricare dei preset di animazione che ho salvato precedentemente e successivamente appunto posso ragionare su questo comportamento di testo questo mi dà la possibilità di creare tantissime modifiche di quello che è il testo stesso io potrei fare diciamo modificare in animazione soltanto delle parole o soltanto delle lettere possiamo fare un po' tutto quello che vogliamo una cosa interessante di questo tipo di testo che può essere vincolato al comportamento di altri oggetti presenti all'interno di 3ds max nello specifico questo è un esempio con una luce ma io potrei vincolarlo a qualsiasi elemento in 3ds max ecco una serie di concatenamenti che vanno a relazionare le proprietà del testo con le proprietà in questo caso della luce verificare che nel momento in cui vado a modificare le proprietà della luce in questo caso la temperatura della luce io vado ad aggiornare in tempo reale il testo perché mi sta dicendo attenzione ora non sei più su mille gradi kelvin che sono caldi ma sei su ad esempio 6500 gradi kelvin che sono quelli un pochino più freddi e vedere in tempo reale la viewport perché è impostata con modalità realistica ma anche in tempo diciamo reale la modifica del testo questo è importante per chi si occupa anche di rappresentazioni scientifiche perché stiamo parlando della possibilità di vincolare delle espressioni ho fatto degli esempi molto semplici ma chi si occupa appunto di matematica per intenderci potrà andare all'interno del set values text ed editare tutta una serie di espressioni quindi introdurre delle aree per quanto riguarda la creazione di variabili e con il linguaggio delle funzioni che sono presenti in 3ds max introdurre tutte le funzioni disponibili e creare quindi un mondo molto avanzato per chi si occupa appunto di questo ambito io mi occupo più di ambito grafico in questo tipo di corso però introduciamo anche la possibilità di fare questo abbiamo anche una lezione in relazione a quelle che sono le coordinate di mapping perché questo testo essendo un oggetto che è un oggetto poligonale a tutti gli effetti anche se parametrico ha al suo interno delle coordinate di mapping quindi se applico materiale lui deve sapere come questo tipo di materiale deve essere applicato all'oggetto quindi vedremo due diverse tipologie una con unwrap e una con gli uvmap classico e poi per finire faremo un'animazione l'animazione comporta l'introduzione dei materiali comporta la soluzione di come scomporre il blend inteso come bevel del testo stesso perché in questo caso il testo di cui stiamo parlando è un testo che ha un effetto di bevel un po' particolare vediamo come si applicano i modificatori questo è un bevel che viene realizzato con forme diverse perché abbiamo una forma diversa sulla parte posteriore abbiamo una forma differente sulla parte anteriore poi abbiamo un altro diciamo scalino qua materiali diversi con un oggetto un po' come dire di default c'è qualche piccolo problema per realizzare questo tipo di diversificazione insieme però vedremo qualche trucchetto e questo trucchetto ci darà quindi la possibilità una volta che poi dobbiamo realizzare questo tipo di animazione di avere un testo come quello che vediamo rappresentato in questo momento faremo come sempre rendering insieme questi sono rendering di presentazione veloce su quello che noi possiamo realizzare però è interessante sapere che molto velocemente all'interno di 3ds max io posso realizzare un tipo di rappresentazione come questa poi chiaramente ognuno di noi può impostare secondo le proprie esigenze il testo e il tipo di animazione nel corso vedremo come si impostano le animazioni come si inseriscono degli strumenti ausiliari per fare ruotare correttamente il testo in relazione alla rotazione anche di altri oggetti che sono presenti nella scena come animare la fotocamera perché anche la fotocamera ha un tipo di movimento bene, io spero che la presentazione vi sia piaciuta e vi aspetto per questo masterclass nel sito trovate tutta una serie di immagini che io magari non ho illustrato al 100% nella presentazione che possono darvi di più l'idea di quello di cui stiamo appunto parlando io vi saluto e vi ringrazio saluti da Mac21